Cosa ci fa una Porsche in esposizione nel centro storico di Barletta? L'idea e il merito appartengono a Bennistrignano, 24 anni barlettano, con una passione infinita per i motori. Ha deciso al termine della stagione agonistica di portare il suo boli della Porsche 992 GT3 Cup nei pressi della cattedrale, un gesto semplice e spontaneo che vale come ringraziamento alla sua città per il sostegno ricevuto. Abbiamo pensato di fare questa cosa qui, di portare la nostra macchina in piazza per far toccare la nostra realtà con le proprie mani ai cittadini di Barletta, in modo tale che, visto che questo sport non è uno sport conosciuto magari come altri, quindi abbiamo voluto presentare la nostra realtà qui in piazza. Con questo bolide sui circuiti più importanti e prestigiosi d'Italia, in alcuni casi dove fa tappa anche il grande circus della Formula 1. Strignano si è distinto durante la stagione nella Porsche Carrera Cap Italia, due i secondi posti collezionati, il primo presso l'autodromo romano di Vallelunga nel quarto round, l'altro nel quinto e penultimo round, sulla storica pista dell'autodromo di Monza. Diversi altri podi inoltre sfiorati, il bilancio stagionale è sicuramente incoraggiante. Siamo stati sempre in battaglia per le posizioni di vertici e abbiamo concluso il nostro campionato in top ten e quindi siamo molto soddisfatti. Sicuramente vorrei ringraziare tutti i miei sponsor, per la maggior parte di Barletta e poi tutti i miei sostenitori, amici e la famiglia che da sempre mi permette di fare questo. 2022 ok, 2023 ricco di ambizioni e propositi interessanti. Benny Strignano con la mente è già prioritato verso la prossima stagione tra attività nazionale ed internazionale. Puntare al campionato, il campionato italiano e faremo qualche apparizione nel campionato del mondo, sempre del monomarca Porsche.